Si sono presi il nostro cuore sotto una coperta scura. 22 dicembre 1979, Fabrizio De Andrè viene liberato dai suoi sequestratori. Il cantautore e la compagna Dori Ghezzi erano stati rapiti il 27 agosto dall'anonima Sarda. Per il loro rilascio viene pagato un riscatto di oltre 550 milioni di lire.